Potente appara ragazzi! Qua Waxlogi e un'unica ad oggi sono da solo e sono qui a presentarvi il video che conterrà l'apertura di sicuramente due pacchetti da 100.000 crediti e poi o un eventuale terzo oppure altri due pacchetti da 50.000 crediti e ragazzi se mi state vedendo così perché? Perché devo sfatare un mito o meglio cerco di sfatare un mito che è appunto quello di non trovare niente nei pacchetti infatti ho deciso di cambiare posizione della webcam fatemi sapere innanzitutto se la preferite così o come era prima e poi mi son messo il cappello perché io non trovavo cose ma non ce l'avevo quindi ho scoperto il trucco e quindi io andrei direttamente ad aprire il pacchetto da 100.000 crediti e poi ragazzi questo qua è l'account del potiscitella quindi se eventualmente troveremo qualcosa lo metterò appunto in squadra per appunto continuare al meglio il potiscitella appala e io direi di andare ad aprire il primo si spera di questi tre pacchetti perché poi devo studiare e non ho molto tempo quindi dai l'abbiamo aperto io direi di guardarlo anzi no non lo guardiamo no si no 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 voi ora state vedendo cosa io sto per trovare slash ho trovato slash troverò è un informa? se è un informa battete due volte le mani e mi sentirò al tre li apro tre no uno due tre no piche porca vacca ti prego dimmi che c'è un informa di tutto a destra ti prego scongiuro vidal ti prego no dio santo che schifo ma dai eh ma no ancora nulla eh no eh che due palle potremmo utilizzare no vidal lo vendo perché non dovrebbe valere poco si spera vediamo un attimo quanto vale vidal sti cazzi 3.300 vale ma mi prendete in giro io speravo 30.000 ho 11.000 crediti quindi cercheremo proveremo di andare a aprire un altro pacchetto che schifo ragazzi che schifo non posso neanche aprire nulla dai 10.000 ragazzi l'abbiamo aperto l'abbiamo aperto allora ti prego questo lo devo guardare tanto se non guardiamo non troverò nulla quindi andiamo a trovare un bel in non ci credo se ma vaffanculo ragazzi la verità è che ci mancavano gli occhiali noi tutti lo sappiamo ormai quindi ragazzi allora noi andremo ad aprire il pacchetto un pacchetto uno da 50.000 crediti no si 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 poi quello da 100 e se noi troveremo qualcosa di che vale mannaggia la salsiccia aprirò un altro pacchetto da 100 se no vi saluto perché è scandaloso io sono credo di essere l'unica persona di tutto figlia che non trova niente no no nei pacchetti mi hai fatto prendere malissimo cioè quindi siamo arrivati a trovare argentino del menster city che non è agguero bensì demicevis portoghese del real madrid che non è cristiano ornaldo bensì pepe argentino del barcellona che non è messi ma bensì è mascherano ci sta andando da dio se possiamo così dire no c'è 50 ma 50 mila crediti ma è il no ti prego ti prego l'ultimo forse l'ultimo pacchetto da 100k vediamo se riusciamo no un mi piace per il sostegno ragazzi vi chiedo solo questo un mi piace per il sostegno siamo pronti col naso tutto col naso tutto col naso tutto col naso oh ti pare tecnicamente allora da qua occhio cioè gli ho dato un occhio e fanno tutti cacare terri closi iguain però se c'è un informa è a fondo pagina quindi la speranza è l'ultima a morire andiamo a destra non spunta ancora niente ancora niente modrici yeah no ti prego ti prego ti prego no Aaaaaaah!